E mi ha usato sempre misericordia e allora anche io devo usare misericordia verso gli altri. E l'altro suggerimento che ci viene da Gesù, di non umiliare mai gli altri. Pazzo, stupido, non capisci niente, io capisco io, io faccio bene le cose, sei proprio un tappeto per terra, non vali niente, mai, mai. Non soltanto non dirlo, ma neanche pensarlo. Il nostro cuore che sia veramente libero. Se vogliamo trovare la comprensione e la misericordia di Dio, dobbiamo donare comprensione e misericordia. E dobbiamo sempre considerare che noi non sappiamo mai quali sono i doni, le grazie che Dio fa agli altri. Però sappiamo e speriamo di riconoscere tutto il bene che Dio mette nel nostro cuore. E allora io sono responsabile di corrispondere a quest'amore e questa bontà di Dio. Questo tempo di Quaresima che sia allora veramente un tempo in cui noi vogliamo assolutamente diventare giusti come Dio. Vogliamo assolutamente sforzarci di diventare buoni e misericordiosi come Lui. E vogliamo assolutamente invocare il Suo aiuto perché possiamo perseverare in questo bene sino alla fine. Amen.